Bentornati cari amici nel nostro Curiosale in Libreria, oggi abbiamo qui con noi nel nostro salotto Carlo Bridi, molto conosciutissimo da voi che ci seguite da casa, Carlo bentrovato. Buongiorno Silvia, bentrovati ai nostri telespettatori di Telepace. Come sapete Carlo è una nostra conoscenza, ormai sei di casa, in veste di giornalista, di segretario dell'associazione Asfron, che fa tanti progetti nelle scuole, prevenzione all'utilizzo consapevole dei beni alimentari, dell'acqua, eccetera, però oggi, attenzione, è una novità assoluta in veste di scrittore di questo libro, Servo di Dio, Padre Andrea Bortolameotti. Ecco Carlo, una figura alla quale anche con tutta la famiglia siete molto legati. Abbiamo parlato già in passato di Padre Andrea Bortolameotti, per il quale è in corso la causa di beatificazione. Questo libro vuole essere un omaggio a questa figura, vero Carlo? Certo, diciamo che è stata una cosa molto bella quando, diversi mesi fa, il Superiore Generale dei Padri Venturini, la congregazione nella quale era anche Padre Andrea, mi chiamò e mi disse Il nostro padre Fornari in Brasile ha scritto una biografia su Padre Andrea, l'ha tradotta anche in italiano e la vorremmo pubblicare, però non è scritta bene l'italiano perché lui è ormai in Brasile da quasi 40 anni, quindi il suo è un italiano brasileiro, quindi bisogna rivederlo, ripassarlo, rimetterlo a posto e poi lo stampiamo, troviamo i soldi. Dicevo, noi però non abbiamo tempo, allora dice, l'unico che lo puoi fare sei tu. Dico, ma guarda, per Padre Andrea non ci penso neanche 30 secondi, senz'altro. Quindi ho cominciato a lavorarci su, abbiamo trovato, grazie alle donazioni della Cassa di Trento, della quale il presidente è anche lui, Vigolano, è nato a 100 metri da Padre Andrea e quindi che conosceva molto bene, la Cassa dell'Alta Val Sugana, con anche lì un bravissimo presidente molto sensibile, ci hanno finanziato questo libretto che abbiamo dato alle stampe e che dovrebbe servire per far conoscere di più la vita e le opere di questo nostro concittadino di Vigolo Vattaro. Ecco Carlo, vogliamo dire ai nostri amici che ci seguono da casa chi era Padre Andrea, anche se so che ci vorrebbe tanto tempo per tratteggiare questa figura così straordinaria. Padre Andrea è nato a Vigolo Vattaro nel 1919 ed è morto a Barretos, nello stato di San Paolo, in Brasile, nel 2019, 28 ottobre 2009. Ebbene, Padre Andrea era nato 50 anni dopo di Santa Paolina, a meno di 100 metri dalla casa di Santa Paolina. Fra l'altro lui era devotissimo di Santa Paolina, tant'è che la prima delle opere sociali, di alto valore sociale, una casa per i malati dei tumori, fatta a Barretos, è stata dedicata proprio a Santa Paolina. Padre Andrea, poverissimo di famiglia, non poteva andare a studiare in seminario, per cui ha chiesto a Padre Venturini, la sua famiglia, di poterlo accogliere, è andato subito con la congregazione dei Venturini ed ha fatto tutta la sua carriera, fra virgolette, nella congregazione dei Venturini, prima in Italia e poi in Brasile. C'è un particolare che mi ha colpito fin dall'inizio della lettura di queste memorie. Il fatto che il giovanissimo Padre Andrea è diventato subito il Padre spirituale e il segretario del Superiore Generale, Padre Mario Venturini. Quindi ha dimostrazione della fiducia immensa che il Superiore Generale aveva in questo giovane prete. Ecco Carlo, lei l'ha conosciuto di persona, Padre Andrea è stato in Brasile anche con sua moglie e mi ricordo, perché ne avevamo parlato, che l'aveva colpito sotto tanti punti di vista. Uno di questi era il fatto che Padre Andrea fosse instancabile, sia nelle opere di carità ma anche nella vita di preghiera, perché pregava tantissimo, vero Carlo? Ecco, direi che se una cosa l'avevamo già registrata fin dagli anni 90, dagli inizi degli anni 90, cioè il suo grosso impegno sul fronte sociale che ci ha portati poi con l'associazione Amici di Padre Andrea, costituita con lui a vigolo con parenti e amici. Questo ci ha portato a realizzare ben 11 progetti in Brasile, questo lo sapevamo, ma quando siamo andati lì in Brasile e abbiamo passato alcuni giorni con lui a Barretos, abbiamo scoperto questo aspetto di Padre Andrea, un uomo di grandissima fede. era sempre a pregare, era sempre a pregare. Ricordo un particolare che mi ha colpito ed è quello che il giorno che siamo arrivati a Barretos, lui era venuto alle 5 di mattina a prenderci all'aeroporto a San Paolo, poi abbiamo fatto 600 chilometri più di 6 ore di viaggio in macchina con lui, con mia moglie, per arrivare a Barretos. Siamo arrivati a Barretos che mancavano 5 minuti alle 7 di sera. E allora ha detto al suo accompagnatore che lo portava in macchina, che ci portava in macchina e diceva, allora portami direttamente in chiesa, in parrocchia, che vado direttamente a celebrare. Aveva 89 anni e era in piedi dalle 5 di mattina. Alle 8 è arrivato a mangiare una minestra che aveva preparato mia moglie, aveva mangiato 3 bocconi di minestra, 3 cucchiai di minestra, quando arriva una donna disperata e dice, padre Andrea, c'è mio marito che sta morendo. Padre Andrea ha lasciato lì la minestra, se ne è andato in casa di questa donna ad assistere questo moribondo, è tornato alle 10. Mia moglie dice, padre Andrea ti riscaldo un piatto di minestra, non ho, dice, ormai lascia perdere. Dove è andato? Direttamente in cappella. Noi poi siamo andati a dormire perché erano due giorni che non dormivamo. La mattina alle 4 io ero uscito per andare in bagno. Dov'era padre Andrea? Già in cappella che pregava, con una intensità che io non ho mai visto. Ecco, questo lo ritengo uno degli aspetti più importanti che anche padre Fornari nella pubblicazione fa emergere. Questa sua intensità nella preghiera, questo suo relazionarsi direttamente con il Signore. Ma questo nonostante che lui fosse un uomo che viveva anche bene nel mondo. Mio, mia moglie bravissima cuoca, quando veniva a pranzo a casa nostra, che era vicolo per i periodi di riposo, a lui piaceva mangiare e bere bene. Una persona, come diceva il Vangelo di oggi, non era né un mangione né un beone, ma a lui piaceva la vita. E quindi poi con un sorriso sempre, sempre presente, non si arrabbiava mai, ascoltava sempre a tutti ed era pronto, di fronte a tutti. Probabilmente anche tutte le opere di carità che ha suscitato scaturivano proprio da questa fonte, che era l'intensa vita di preghiera che conduceva. Ma infatti, ecco, ci parli Carlo di a che punto siamo nel processo di beatificazione? Questo libro serve anche un po' a questo, no? Certamente. Anche se, da quando ho scritto la aletta di copertina, un mese e mezzo fa, la situazione è già cambiata in parte, perché la istruttoria da parte della segreteria della congregazione dei Santi in Vaticano ha completato l'esame dei 4.500 documenti che sono allegati alla causa portata dal Brasile, da Barretos, ha chiesto tre piccoli chiarimenti al Barretos, al vescovo Monsignor Milton, e Monsignor Milton si è impegnato a fare arrivare il tutto entro settembre. A quel punto, durante il mese di ottobre, dovrebbe essere completata l'istruttoria e ai primi di novembre dovrebbe, secondo Gambalunga, che è il postulatore della causa, dovrebbe venire affidato appunto a Gambalunga la redazione dell'apposizione, che è in pratica il documento istruttorio a dimostrazione delle qualità eroiche del servo di Dio Padre Andrea per il quale si va a chiedere la beatificazione. Il professor Gambalunga ci ha detto che ci vorremmo circa due anni a stendere l'apposizione, anche perché ogni capitolo che lui andrà a preparare, prima di fare il passaggio al secondo capitolo, dovrà essere valutato da una commissione di cinque esperti che però non seguono solo la causa di Padre Andrea, ma ne hanno 40-50 in corso e allora si metterà in coda. Vedremo anche lì, grazie a qualche conoscenza che abbiamo in quei palazzi, di accelerare un po' la cosa perché, quale sarebbe il mio sogno, il mio grande desiderio, prima di morire, di vedere il nostro carissimo Padre Andrea agli onori dell'altare. Beh, insomma, non acceleriamo i tempi rispetto alla tua ripartita, Carlo, per carità, insomma, ma sicuramente poi i nostri tempi non sono quelli del cielo e quindi siamo in attesa di vedere cosa succederà. Ma io so che in Brasile già si parla di grazie ricevute, vero Carlo, di miracoli, di... Sicuramente Don Milton, prima di avviare la causa, aveva già riscontrato che c'erano stati sicuramente tre, quattro casi di grazie ricevute. Però, attenzione, questi casi di grazie ricevute non servono per la beatificazione. per arrivare alla beatificazione, alla promulgazione del decreto da parte del Santo Padre, è necessario che si siano verificati dei fatti straordinari scientificamente inspiegabili durante il periodo di stesura della causa, della preparazione della causa. Quindi sembra, peraltro, che ci siano già delle nuove guarigioni dovute a Padre Andrea. Vedremo. Sicuramente siamo nelle mani della Providenza e nelle mani di questo grandissimo uomo che dal cielo sicuramente ci sta assistendo e ci sta illuminando anche per tutte le varie posizioni che ci sono su questo suo riconoscimento. Perché mi diceva giustamente la scorsa settimana Monsignor Bressan che ha presentato il libro dice Padre Andrea è già santo in cielo. Dice si tratta solo di un riconoscimento. Ma lui è già. perché questo era anche quello che il popolo lo ha riconosciuto il giorno del funerale. Un santo vissuto fra noi. Certo, infatti abbiamo saputo che il giorno del funerale in Brasile c'è stata veramente una partecipazione del popolo straordinaria e quando si dice morire in odore di santità insomma penso che sia anche un po' il caso di Padre Andrea Bortolameotti. Sì. Ecco Carlo quindi possiamo anche ulteriormente farlo conoscere anche grazie a questa pubblicazione. Ecco vediamo alcune delle foto che corredano il libro che ha scritto Carlo e bene allora restiamo in attesa. Solo una piccola correzione non l'ho scritto io io lo so perché a Cesare ciò che è di Cesare giustamente io l'ho solo rielavorato per dare una scorrevolezza in italiano ma l'autore sono due sono il padre Fornari padre Angelo Fornari e il diacono Iosep Paolo Lombardi e gli autori sono loro chiaramente poi avendolo loro scritto originariamente in portoghese essendo stato di furro in 5.000 copie in portoghese poi c'era bisogno di metterlo a posto e questo l'ho fatto io con grande piacere grazie 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 Carlo veramente grazie per essere stato ancora con noi ricordiamo i nostri amici che ci seguono da casa la straordinaria storia di padre Andrea Bortolameotti che possiamo conoscere anche attraverso questo libro che Carlo Bridi ha italianizzato per così dire grazie Carlo grazie Silvia buongiorno a tutti i nostri telespettatori di Telepaccio e grazie anche a voi amici che ci seguite da casa e un buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti